A Mon Proficolor buongiorno. Sì, come dice? Se serviamo artigiani e imprese? Ma certo, siamo qui per questo. Aver costruito negli anni il gruppo più grande in Italia nella rivendita di materiali per edilizia leggera, palinameria e industria, è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo è stato possibile solo grazie ai nostri collaboratori, più di 100 persone che vorremmo ringraziare, una ad una. Costruire la nostra rete di rivendita è stato il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto, presidiando tutto il territorio del nord-est Italia. Questo però non ci ha cambiati dentro. Nonostante le dimensioni, continuiamo a dare grande importanza al rapporto stretto con i nostri clienti. Oggi stiamo lavorando per poter dare maggior supporto a imprese ed artigiani. E' per questo che stiamo investendo importanti risorse per sviluppare servizi e soluzioni per poter essere un vero partner per loro. Siamo solo all'inizio, vogliamo fare molto di più e lo faremo. Amon Profi Color